ciao e benvenuti sul canale youtube già come claudia dove vai oggi vi portiamo a visitare la duna di pilatta siamo in francia a sud ovest nel dipartimento della geronda si trova a circa 70 km sud ovest di bordeaux nel corso dei millenni la natura ha creato questa duna straordinaria che è uno dei siti naturali più belli e più visitati della francia venite con noi grazie a tutti grazie a tutti la duna di pilatta si trova all'ingresso del bacino di arca hong e presenta elementi passeggistici eccezionali un meraviglioso quadro panoramico di foreste dune e oceano la duna è composta a un cusco di bordeaux ma non è un cusco di capparare ma non è un cusco di bordeaux ma non è un cusco di bordeaux La duna è composta da circa 60 milioni di metri cubi di sabbia. La duna di Pilate è alta dai 100 ai 115 metri a seconda dell'anno. Raggiungere la cima si può usare la scala allestita da Pasqua a ogni santo oppure per i più coraggiosi salendo sulla sabbia. La duna è composta da Pasqua. La duna è composta da Pasqua. Non mancano i superlativi per descrivere questo fenomeno. Anche se non è la duna più alta del mondo, è di gran lunga la duna più alta d'Europa. E chi avrebbe mai pensato che la sabbia potesse accumularsi proprio in questo luogo per formare una montagna di sabbia così alta? Appartenente alle dune costiere regionali, ad oggi l'unica duna ancora in movimento in questo sistema. Tra l'oceano e la foresta si sposta da 1 a 5 metri all'anno, a est sotto l'influenza dei venti e delle maree. Così gradualmente copre lo spazio della foresta di aceto. Così gradualmente copre lo spazio della foresta di aceto. Così gradualmente copre lo spazio della foresta di aceto. Così gradualmente copre lo spazio della foresta di aceto. Così gradualmente copre lo spazio della posta di aceto. Cosìiralmente copre lo spazio della foresta di aceto. Così deepenmente copre lo spazio della provincia. Così via della foresta di aceto. Così urbanizzata di aceto. Così Marviniteria dell'anima. Così coconita anche con la ricide di aceto. Grazie a tutti Bene, e così abbiamo terminato anche questo filmato Vi ricordo che siamo sul canale YouTube Giacomo e Claudia dove vai? Se vi è piaciuto mettete un mi piace E ragazzi ci vediamo al prossimo viaggio Ciao